Sì, è davvero stato un sconvolgimento, un fatto non immaginabile neanche nella peggiore delle occasioni. Credo che questo non sia stato il solo. Nei giorni scorsi anche la morte di Pamela ha davvero scoccato l'intera città per le modalità con cui è avvenuto e viviamo certamente come città un momento molto delicato. C'è evidentemente un grande disorientamento, credo che questo sentimento sia messo misto alla paura che certamente c'è ma che dobbiamo cercare di scacciare immaginandoci dentro un contesto che comunque ha saputo sempre rispondere in maniera civile, dignitosa e di rispetto anche di persone che arrivano in città seppur di colore. Quindi mai erano accaduti fatti come questo. Credo che in questo momento, in questa fase, tutti si debbano sentire la responsabilità e il compito di essere responsabili di ciò che accade. Non possiamo alimentare odio. I colpi dal Madarfuoco, sentiti distintamente da una macchina in corsa e poi partita a tutta velocità e poi sono arrivate le forze dell'ordine e caos totale in corso Cairoli.